Poggio Accaiano lancia un nuovo strumento per la promozione del territorio. Cavalieri e Vetrofani è riportante un QR code che permette l'accesso diretto e immediato al portale Visit Poggio Accaiano. In questi giorni verranno distribuiti a bar, ristoranti e attività commerciali del territorio comunale all'insegna del motto Rinascimento Fuori Porta. L'obiettivo è portare cittadini e turisti sulla web app di promozione turistica. È una piattaforma di contenuti che promuovono il territorio dal punto di vista turistico e quindi con la Villa Medicia, il Museo della Natura Morte, il Museo Ardengo Soffici ma anche i percorsi outdoor, quindi i percorsi trekking, i percorsi leggeri, le passeggiate che si possono fare sul nostro territorio e le attività commerciali, in primis chiaramente quelle di bar e ristorazione e del pernottamento, di recettività. Il portale è aperto a tutte le attività commerciali del territorio